Ben ritrovati al Notice di Antenna 3. Vediamo subito insieme le curiosità di questa puntata. Ottobre, mese principe dell'autunno. Proverbi e detti popolari veneti ci raccontano molto di questo mese. Per esempio, si dice ottobre piovoso, campo prosperoso. Indicazione per capire come potrebbe essere il raccolto. E ancora, con riferimento al meteo, ottobre sebel, mattien pronto l'ombrel per la spiccata variabilità di questo periodo dell'anno. Modi di dire che rappresentano la saggezza contadina del nostro Veneto. Nel 1904 venne inaugurata la metropolitana di New York. Senza di lei, la più popolosa città degli Stati Uniti d'America si fermerebbe. La metropolitana di New York, tra le più estese al mondo, è l'unica in assoluto a funzionare 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. La metropolitana di New York nacque come progetto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sulla scia delle prime costruite a Londra e a Parigi. Con oltre un miliardo e 700 mila utenti all'anno, è tra le più trafficate del pianeta. La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere la zucca, uno dei frutti più gustosi dell'autunno. Tra le più saporite della nostra tradizione si annovera quella storica di Chioggia, prelibatezza della laguna Vereta, chiamata zucca marina. Sfruttata sin da epoca antica per la sua resistenza e conservabilità, era perfetta come fonte di sostentamento per la popolazione più povera. Citata anche da Goldoni, nelle sue baruffe chiozotte, deve probabilmente il nome alle cosiddette famiglie dei marinanti, che erano solite occuparsi dell'orto e della coltivazione di verdure. E che si distinguevano invece da quelle che si occupavano più specificatamente della pesca. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie! Grazie! Grazie!